Buongiorno, sono Angelo Zanchi, lavoro in BCC da oltre 20 anni e da quattro anni ho la responsabilità del settore commerciale della banca. Opero non da solo, con molti collaboratori, sono oltre 200 e sono distribuiti su tutto il territorio di competenza in cui operiamo. Con loro incontriamo tutti i giorni i nostri clienti, i nostri soci, cerchiamo di dare risposte adeguate a quelle che sono le loro necessità. La nostra è una banca che ha una tradizione importante, abbiamo più di 120 anni di storia e questo ci ha consentito di diventare realmente la banca del territorio con forti radici nel tessuto sociale ed economico in cui operiamo. Siamo una banca che ha una tradizione importante ma siamo anche molto orientati al futuro, il futuro che imporrà delle scelte decisive per noi e per i nostri clienti e noi siamo pronti ad affrontare queste sfide al fianco dei nostri soci e dei nostri clienti.